sto già riprendendo come si applicano poi dobbiamo fare un esercizio di matematica su questo allora pronti partenza via asper li metto sulla allora vediamo che qui allora questa io metto il fotofinish come si vuol dire diciamo che questo è finito un po e tre quindi questo qua è squalificato questo è proprio il più preciso il maschio al primo posto lui togliettelo lui non mi sbaglio io pure questo è fuori poi al secondo sì questo lupo secondo terzo vivo quindi loro due sono nuove ruote allora vediamo per il quarto